La rassegna Mira al Teatro d'Estate è pronta ad ospitare nell'anfiteatro del Parco Miralfiore il nuovo musical Aladdin Sein. L'appuntamento è per giovedì 18 luglio alle ore 21 e 15 con il sesto musical all'insegna di teatro e didattica musicale inclusiva realizzato attraverso la sinergia decennale fra cooperativa sociale T41A e l'associazione In Musica con la collaborazione dell'associazione Il Grillo d'Oro e il Centro Danza Performance. Adattamento testa e regia sono di Lorenzo Piscopiello e nel cast ci saranno i ragazzoni della cooperativa T41A con orchestra e coro dal vivo e coreografie originali. Saranno ben cento le persone coinvolte nella realizzazione di una versione un po' folle del classico Aladdin in cui il tradizionale canovaccio narrativo deraglia in situazioni inattese e sorprendenti. Uno spettacolo all'insegna di un messaggio artistico che veicola l'inclusione pronto a divertire e sorprendere il pubblico. Grazie. Grazie.